Con il pettorale numero 2 si è presentata Magic Lady Oscar, figlia di Magic Montresore, Magic Marina, Fontanella, Magic Arabians, proprietario e allevatore. Nell'ordine i punteggi assegnati da Stoianosca, Bialobock, Neubacher, Everars, Jadane. 9, 19, 19, 19, 18 e mezzo e 19 e mezzo in tipo. 18 e mezzo, 18 e mezzo, 18 e mezzo, 18 e mezzo, 19 e mezzo in testa e collo. 18, 18, 18 e mezzo, 17 e mezzo, 19 in dorsa armonia. Arti, 16, 15 e mezzo, 16 e mezzo, 15 e mezzo, 16 in arti. Movimento 18, 18, 19, 18, 18 e mezzo in movimento. 450 punti e mezzo per Magic Lady Oscar. www.agript.com.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.